La malattia del capo Lon Quella volta ero seduto con due dei miei amici indiani, vicino ad un falò che ci proteggeva col fumo dagli attacchi delle zanzare. Sotto di noi, sulla destra, a circa dieci metri dall'argine che si sgretolava, scorrevano le placide acque dello Yukon. Sulla sinistra, dietro i dolci crinali delle colline, il cielo era appena rossato dal pallido sole dei giorni artici. Quel sole che, né per quella né per molte altre notti, sarebbe mai tramontato al di sotto della linea dell'orizzonte. I due indiani che mi sedevano accanto erano dei vecchi capi, Lon e Mustac, un tempo compagni di battaglia, ed ora unici a decrepiti custodi delle antiche tradizioni della tribù. Erano dei sopravvissuti oramai, e i giovani, guastati dal mondo dei minatori, con i quali erano venuti a contatto sin dall'infanzia, non avevano più per loro il minimo rispetto. Che rispetto e che timore potevano ormai incutere gli antichi riti ai misteri spaventosi degli sciamani. Ora che ogni giorno, a monte e a valle dello Yukon, tutti potevano udire lo strepito e gli sbuffi del battello a vapore, il mostro che, infischiandocene di ogni legge divina, respirava il fuoco. Lon e Mustac, i due vecchi, essendo vissuti molto, troppo a lungo, trascorrevano ora dei giorni piuttosto tristi, poiché, con i cambiamenti che erano avvenuti, non venivano più onorati come loro aspettava, né più era riconosciuta la loro dignità di capi. Perciò attendevano mestemente che la morte venisse a liberarli. Era forse per questo che quel giorno lo strano uomo bianco, che si era seduto con loro vicino al fuoco per difendersi dalle zanzare, e che pareva disposto ad ascoltare con attenzione le storie del tempo antico, di quando lo Yukon non era ancora percorso dal vapore, aveva incontrato la loro simpatia. Dunque mi avevano scelto una sposa, raccontava il capo Lon ricordando il passato. Infatti mio padre, Casatacà, detto la lontra, era dolorato della mia scarsa volontà di metter su famiglia. Era molto vecchio, ed era il capo della tribù. Io ero l'unico superstite di tutti i suoi figli, e in me risiedevano dunque tutte le sue speranze di vedere perpetuata la nostra gente. Ma sappi, o uomo bianco, che a quel tempo io ero tanto ammalato che neppure la caccia e la pesca mi interessavano, e che il mio stomaco era incapace di digerire la carne, per tenera e saporita che fosse. In questo stato, come potevo salutare con gioia la fidanzata, prepararmi al banchetto e desiderare di udire le incerte parole dei figli piccoli. È così, interruppe Muzzac. Infatti, qualche tempo prima, il capo Lon era stato afferrato da un orso che gli aveva compresso la testa a tal punto che il sangue gli era schizzato dalle orecchie. Il capo Lon scosse energicamente la testa. Quello che Muzzac dice è vero. Dopo la mia ferita guarì, ma io soffrivo ugualmente. Le mie carni si erano cicatrizzate, ma il dolore continuava all'interno. Se camminavo, mi sentivo tremare le gambe. Se con gli occhi guardavo la luce, le lacrime mi scorrevano sul volto. Li chiudevo allora per un poco, e quando li riaprivo, mi sembrava che ogni cosa tremasse intorno a me e tutto mi roteasse vorticosamente nella testa. E qui sulla fronte sentivo un grande dolore, come se un peso me la scacciasse, o come se essa fosse costretta da un'invisibile venda. Ma era difficile parlare, ed era necessario che pensassi a lungo per trovare le parole appropriate. Se volevo parlare alla svelta, con incomprensibili e privi di senso mi venivano alle labbra e dicevo delle sciocchezze. Ero davvero molto ammalato, e quando la lontra mio padre condusse davanti a me Casan, ella era bella, forte, giovane, e mia nipote interruppe di nuovo Muzzac. Casan luciva i mocassini meglio di ogni altra fanciulla della tribù, e nessuna faceva una corda di fibra più forte della sua. I suoi occhi splendevano sempre, e le sue labbra erano sempre addolcite dal sorriso. Aveva un carattere buono, e non dimenticava mai che la donna deve rispettare le leggi imposte dall'uomo. Come ti ho detto, ero molto ammalato, continuò il capolon, e quando Casan, condotta per mano di mio padre, mi comparve davanti agli occhi, dissi, invece delle mie nozze, sarebbe meglio che preparaste il mio funerale. Il volto di mio padre si fece scuro per l'ira. «Sarai accontentato, figlio!» gridò, «Perché, sebbene tu sia ancora vivo, morrai. Noi, infatti, vediamo in te non un uomo, ma un cadavere!» Muzzac intervenne con calore. «Tale modo di agire non è nei nostri costumi. Anzi, al contrario, la cerimonia che doveva essere preparata per il capolon, noi la riserviamo solo ai morti. Ma la lontra era molto arrabbiato. Così è, infatti», riprese il capolon. Ma la lontra parlava poco e agiva molto. Comandò dunque che tutta la tribù si radunasse davanti alla tenda nella quale giacevo. Quando ci furono tutti, ordinò di iniziare il lamento per la morte di suo figlio. E allora tutto il popolo cominciò a piangere e a cantare la lugubre canzone dei morti. «Ooooh, ooooh, 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 ooooh. Poi la lontra comandò a mia madre Okiacuca, che era dentro la tenda, di sporcarsi il volto con la fuligine, di cosparsi la testa di cenere e di piangere come se io fossi morto davvero. Essa faceva un gran fracasso percuotendosi il petto con forza e strappandosi i capelli. Mia sorella Uniac e Senat, mia zia, si unirono a lei e il loro assordante gridare mi fece aumentare ancora il mal di testa e credetti davvero che fosse ormai giunta l'ora della mia morte. Gli anziani della tribù si raccolsero intorno alle suoi e sulle quali giacevo e cominciarono a parlare del lungo cammino che la mia anima doveva percorrere. Uno di loro diceva le immense foreste impraticabili ai vivi nelle quali gli spiriti perduti arravano senza sosta gemendo e piangendo. Quella sarebbe stata la mia sorte. Un altro prevedeva per me dei fiumi larghissimi, delle acque rapide e insidiose in mezzo alle quali gli spiriti demoniaci, urlando, afferravano i defunti per i capelli e li tracinavano sul fondo. parlarono poi delle tenebre e dei cupi silenzi, dello spazio senza fine nel quale la mia anima avrebbe dovuto vagare per l'eternità. Allora mia madre ricominciò a piangere più forte che mai e a sporcarsi di cenone con rinovellato ardore. E Casan, calma e timida, si avvicinò al mio giaciglio per lasciarvi cadere un sacchetto di pelle nel quale sapevo che c'erano la selse, l'azzalino e l'esca perché il mio freddo spirito potesse accendersi un fuoco nei deserti della morte. Ci scelsero poi le coperte nelle quali sarebbe stato avvolto il mio corpo e gli schiavi che sarebbero stati sacrificati perché le loro anime accompagnassero la mia nel lungo viaggio. Ce ne erano sette perché la lontra era ricco e potente e pensava che suo figlio dovesse avere dei funerali degni del suo rango. Gli schiavi erano sette, ho detto, e tutti presi in una guerra che avevamo condotto tempo prima contro i Mukumuks, i nostri nemici che abitavano a valle dello Yukon. Il giorno dopo Scolka lo stregone li avrebbe sacrificati ad uno ad uno perché le loro anime salissero con la mia a scoprire i segreti della morte. Anzi, per essere più precisi, esse avrebbero scurtato la mia canoa fino al gran fiume dalla corrente rapida e insidiosa e poi, siccome non ci sarebbe stato posto per loro, mi avrebbero abbandonato rimanendo ad ululare per sempre nella buia e impenetrabile foresta. Ammiravo i miei abiti morbidi e splendenti e pensando ai sette schiavi che sarebbero stati sacrificati in mio onore mi sentivo fiero dei prossimi funerali i cui splendore molti della tribù avrebbero certamente invidiato. Nel frattempo mio padre, la Lontra, rimaneva seduto silenzioso e meditabondo per tutto il giorno e per tutta la notte la tribù continuò a cantare i suoi lamenti funebri e a rullare i tamburi in mio onore tanto che mi parve di morire un centinaio di volte. All'alba da Lontra si altò in piedi e prese la parola. Disse che per tutta la vita ero stato un grande guerriero cosa questa che tutti sapevano e disse anche che la tribù sapeva come fosse più glorioso morire da uomini in battaglia che giacendo su morbide pelli al calore del fuoco. Dunque, poiché io, suo figlio, avrei dovuto morire in ogni caso era meglio che combattessi contro i nemici della tribù i macumux e che cadessi da eroe trafitto dalle loro frezze. Avrei così meritato gli splendidi funerali che la tribù stava per farmi e conquistato il grado di capo nell'estrema dimora dei morti. Il mio valore poi avrebbe aggiunto gloria a mio padre detto la Lontra. Ordinò perciò che un centinaio di guerrieri si preparasse a discendere il fiume. Quando il nemico fosse stato avvistato io da solo dovevo attaccarlo per incontrare così una morte certa ma piena di gloria. No, non è così o uomo bianco interruppe Muzzac incapace di tacere più a lungo. Sappi che scolca lo stregone aveva visbigliato a lungo all'orecchio di la Lontra prima che questi parlasse e che fu per suo consiglio che il capo Lon venne mandato incontro alla morte. La Lontra era vecchio oramai e il capo Lon era l'unico che avrebbe potuto sostituirlo nel comando della tribù. Come il capo Lon ha detto la gente pianse e si lamentò tutta la notte ma quando all'alba si scoprì che il capo Lon era ancora vivo nel cuore di scolca nacque il dubbio che forse il figlio di Lontra non sarebbe morto affatto. In tal caso lui, scolca, anche dopo la morte di la Lontra non ne avrebbe mai occupato il posto perché Lon sarebbe stato il capo legittimo. Fu perciò scolca che lo dando con nobili quanto ipocrite parole la gloria di una morte in battaglia parlò per bocca di la Lontra. Così è riprese il capo Lon anch'io ero certo che tutto era opera dello stregone ma il dolore mi aveva piegato dal punto che non avevo più la forza né di ribellarmi né di sfidare scolca. Ero indifferente e non avevo altro pensiero che quello della morte che presto mi avrebbe liberato dal dolore e da quella commedia. E così o uomo bianco il piccolo gruppo fu pronto per il combattimento. I miei compagni erano tutti giovani e inesperti di guerra e ci mancava il saggio consiglio degli anziani e dei guerrieri. Tutta la tribù venne sulla riva ad assistere alla nostra partenza. Ci spingemmo nel fiume salutati da entusiastici applausi e da canti di guerra che celebravano il mio coraggio. E chi o uomo bianco non saluterebbe commosso un giovane che va in guerra se si sapesse che è destinato a morirvi? Così tutti quei giovani partirono e fra di essi vi era Muzzac come gli altri verde di anni e di esperienza. La mia canoa era stata legata con solide strisce di cuoio a quella di Muzzac e a quella di Kamakuk perché io come mio padre aveva comandato non mi stancassi a remare e fossi poi in grado nonostante la mia malattia di combattere da forte. Così seguimmo la corrente che ci portava a valle. Non ti annoierò fu uomo bianco raccontando di perfilo e persegno il nostro viaggio che del resto fu molto breve e privo di incidenti. Quando fummo a una certa distanza dal villaggio dei Mukumuks avvistammo due dei loro uomini su due canoe. appena ci videro presero la fuga ridiscendendo il fiume. Fu allora che i miei compagni obbedienti al volere di mio padre solsero la mia canoa e mi lasciarono andare alla deriva sul filo della corrente. Ma o uomo bianco mio padre aveva ordinato loro di restare a una certa distanza per assistere alla mia morte e testimoniare poi sul valore con il quale l'avevo affrontata. così aveva ordinato mio padre la lontra su consiglio di scolca lo stregone minacciando i miei compagni di terribili pene se non avessero obbedito. Tuffai la pagaia e gridai ai nemici che fuggivano tutto il mio disprezzo. Alle mie grida essi si voltarono e videro che avanzavo solo verso di loro mentre i miei compagni restavano sempre più indietro. Subito allontanarono le loro canoe una dall'altra e aspettarono che io passassi in mezzo a loro. Stringendo la lancia e cantando le canzoni di guerra della mia gente arrivai finalmente alla loro altezza. Entrambi tentarono di colpirmi ma io mi chinai sull'orlo della mia imbarcazione e le due lance mi passarono fischiando sulla testa. Mi alzai ora eravamo alla pari tra i nemici che si affrontavano realmente. Quando le nostre canoe si toccarono colpii quello di destra la punta della mia lancia gli scomparve nella gola ed egli si volò dolcemente nell'acqua. Il mio stupore fu immenso avevo ucciso un uomo mi volsi verso il nemico di sinistra pronto a morire coraggiosamente ma la seconda ed ultima lancia dei mukumuks mi sfiorò appena una spalla gli ero ormai addosso alzai la mia arma e gliela immersi nel petto ma egli non cadde subito al contrario mentre lo spingevo per passarlo da parte a parte cominciò a tempestarmi la testa di colpi di remo fu come se una fulgore mi fosse esplosa davanti agli occhi sentii che qualcosa nel cranio mi cedeva di colpo mi parvo ad essermi liberato dal peso che mi gravava sul cervello e dalla benda che mi serrava la fronte il cuore mi si riempì di dolcezza e una grande gioia si impossessò della mia anima credetti che fosse questa la morte una morte dolcissima poi vidi che i canoi dei nemici galleggiavano vuote senza peso e compresi di essere ancora vivo di stare risuscitando avevo ucciso due uomini e l'idea ora mi accitava mi rendeva furioso assetato di sangue ripresi a remare verso il villaggio dei mukumuks i miei compagni cominciarono a gridare se quando mi volsi vidi che il fiume spumeggiava bianco sotto i loro colpi di pagaia sì il fiume biancheggiava di spuma sotto i nostri colpi di pagaia disse a questo punto Bussac poiché secondo gli ordini di la lontra e di Skolka volevamo assistere alla morte del capo Lon per poter testimoniare al ritorno sul valore con il quale egli l'aveva affrontata un giovane mukumuks che esaminava a una rete di salmoni vedendo il capo Lon seguito a breve distanza da noi tutti si fermò sorpreso e poi fuggì rapidamente sulla sua canoa per dare l'allarme al villaggio ma il capo Lon remò ancora più forte aumentando la velocità della sua canoa e noi gli tenemmo dietro davanti alla fila di capanne sulla riva quando il giovane mukumuks volto a terra il capo Lon si alzò in piedi sulla canoa e scagliò la lancia il giovane mukumuks colpito sulla schiena crollò con la faccia in avanti allora il capo Lon saltò a terra roteando alto sul capo il tomahawk di pietra gettò l'urlo di guerra dei suoi avi e corse al villaggio un mukumuks gli si fece incontro lo riconoscemmo da lontano era Tvi il capo il capo Lon lo colpì sul cranio col tomahawk e Tvi rimase un istante come sorpreso poi cadde di schianto sempre per seguire gli ordini della lontra anche noi balziamo a terra e ci lanciamo di corsa dietro il capo Lon e mukumuks credendosi assaliti dalla nostra tribù impugnarono le loro armi e ci fecero piovere addosso una scalica di frecce e di lance e allora anche noi dimenticando gli ordini ci gettammo nella mischia in pochi minuti aiutati dal fatto che il nostro attacco era inaspettato facemmo una strage di nemici con pochissime perdite da parte nostra ho tagliato personalmente la gola allo stregone riprese il capo Lon il cui volto stanco si rianimava al ricordo di quelle lontane gesta eroiche l'uccisi con le mie mani ed era uno stregone più potente di scolca molto più potente ecco la morte mi dicevo ogni volta che affrontavo un nemico eppure ogni volta lo uccidevo e la morte rimaneva lontana da me mi ritenevo invincibile e Muzzac lo interruppe di nuovo seguimmo il capo Lon per tutto il villaggio e tornamo indietro con lui eravamo come un branco di lupi affamati presto non ci furono più Mucumux da combattere radunammo allora i prigionieri un centinaio di uomini duecento donne e molti fanciulli e partimmo questa fu la fine dei Mucumux sì i Mucumux finirono così riprese il capo Lon e quando arrivamo davanti al nostro villaggio la tribù rimase sballordita nel vederci carichi di ricchezze e con tanti schiavi intorno a noi ma più ancora si stupirono di vedermi vivo e il cuore di la lontra si riempì di gioia quando apprese le mie geste di eroismo egli infatti era molto vecchio ed io ero l'ultimo dei suoi figli tutti i guerrieri mi si strinsero intorno e presto l'intera tribù mi circondò acclamandomi allora io mi arsi in tutta la mia statura e con voce di tuono ordinai a Scolka di avvicinarsi così fu o uomo bianco assenti Muzzac con voce di tuono e tutta la tribù tremò di paura Scolka mi si avvicinò timoroso proseguì il capo Lon e gli gridai che non pensavo affatto alla morte e continuai dicendo che però sarebbe stato ingiusto deludere gli spiriti della tribù che attendevano nell'aldilà dissi che perciò ritenevo fosse un dovere religioso accontentarli mandando l'anima di Scolka a vagare urulando per le immense e folte foreste dell'oltretomba così davanti a tutta la tribù lo sgozzai freddamente io capo Lon uccisi Scolka con le mie mani davanti agli occhi atterriti di tutta la tribù alcuni guerrieri mormorarono e allora gridai con voce di tuono precisò Muzzac è vero gridai con voce di tuono guardatelo io sono il capo Lon e ha ucciso Scolka lo stregone bugiardo io solo fra tutti gli uomini ho varcato gli eterni cancelli della morte e sono ritornato alla vita con i miei occhi ho fissato l'invisibile e nelle mie orecchie risuonano ancora le parole sacre la lontra è stato un grande capo ma io sono più grande di lui per tutta la vita egli ha combattuto contro i mucumux e da me è bastato un solo giorno per distruggerli mio padre la lontra è vecchio e Scolka lo stregone vago ormai nelle foreste della morte perciò ora il capo sono io e come capo e stregone o gente della mia tribù regnerò d'ora innanzi su di voi questo è il mio discorso e se tra di voi vi è qualcuno che vuole contraddirlo in tutto o in parte è bene che si faccia avanti attesi a lungo ma nessuno parlò allora ripresi uomini ho sentito ormai il sapore del sangue portatemi ora della carne perché sono affamato e che le donne preparino un superbo banchetto la gioia scenda fra di noi e fughi anche il ricordo dei canti di morte si celebrino le mie nozze e Kazan la giovane la futura madre dei figli di Capolon mi sia condotta dinanzi a queste parole la lontra che era molto vecchio e molto facile a commuoversi cominciò a piangere come una scuò e mi abbracciò le ginocchia da allora io fui capo e stregone e tutta la tribù si inchinava davanti a me e mi colmava di onori fino a quando sullo Yukon non venne il vapore aggiunse piano Muzzac ahimè così fu disse pensieroso il capolon fino all'arrivo del vapore che fa che fa ti che fa l'arrivo che fa che fa sono